La Somerset House, una casa di riposo a 5 stelle, si trovava in un luogo pittoresco della Florida, a due chilometri a est della costa dell'Oceano Atlantico, sul golfo del Messico Occidentale. L'Havana, a sud, era a un tiro di schioppo. Ma quasi nessuno di questo tranquillo rifugio voleva andare oltre la piscina o il lussuoso campo da gioco. Se vi rimane un po' di energia, è il golf. Per molti, questo paradiso era l'ultimo punto di sosta tra qui e l'altro mondo. Chi poteva permettersi di spendere 10.000 dollari al mese, aveva già viaggiato abbastanza da essere sorpreso dalla riva del mare o dall'esotismo della Cuba comunista. Mangiavano, bevevano, si sdraiavano sui lettini per massaggi, fumavano sigari. A volte guardavano il telegiornale e si convincevano sempre di più che probabilmente era un bene che non sarebbero rimasti a lungo in questo abisso di mondo fumoso e tetro. Andrew poteva permettersi le migliori condizioni di vita in questo posto. Potevano scegliere tra un appartamento, un cottage o una villa. Andrew scelse, ovviamente, la villa. Il prezzo era un po' più alto della media, ma poteva permettersi di più se voleva. Nella stessa Florida, un cottage a Sarazón de Club costava 350.000 per gli anziani, senza contare il canone mensile. Ma Andrew era frugale a modo suo, naturalmente. Tanto più che si sentiva abbastanza bene nei suoi 69 anni e non vedeva l'ora di trascorrere un lungo soggiorno in questo paradiso. Era il proprietario di un'agenzia pubblicitaria con uffici a Mosca, San Pietroburgo, Praga, Tokyo e New York. Non era nemmeno un'agenzia. Era un'enorme società che copriva mezzo mondo con la sua rete. Un solo manifesto pubblicitario alla fermata dell'autobus nel centro della capitale russa pagava il soggiorno mensile di Andrew alla Somerset House. E ci sarebbero abbastanza manifesti per un'intera azienda. E questo se non si contano tutti i tipi di servizi di sinistra che si occupavano più di politica che di informazione. Gli affari andavano. A gonfie vele, soprattutto in tempi difficili in cui i confini tra verità e falsità erano confusi e ogni bussola morale era cancellata. Andrew era molto stanco. Era stanco di tutte quelle facce coccolate dai portafogli stretti, di nuvorisce senza principi e di semplici sciocchi che speravano prima o poi di unirsi a queste schiere infinite di grassoni il prima possibile. Non è che si rammaricasse dell'ingiustizia che regnava intorno a lui o che la sua coscienza si fosse risvegliata in qualche modo? No, era semplicemente stufo della vita. Tutto ciò che aveva voluto vedere, l'aveva visto. Tutto ciò che voleva toccare, lo aveva toccato. Tutto ciò che poteva assaggiare, lo aveva assaggiato. E ora non voleva più vedere, sentire o assaggiare l'utero. L'ambiente che gli si apriva davanti dalla finestra della villa era ormai sufficiente. Un desiderio particolarmente vivo di allontanarsi dagli affari e dal mondo familiare era sorto dopo la morte della moglie Olivia. Prima aveva esaurito le sue capacità fisiche. Tre anni fa. Andrew le è stato spesso in fedee. Non ha mai espresso apertamente un amore particolare per lei. Ma quando lei se n'è andata all'improvviso, si è trovato ancora più indifferente, fino al rifiuto totale. Si avvilì rapidamente e la sua mente andò completamente alla deriva verso il passato, verso il presente e ancor meno si interessò al futuro. Aveva una figlia, Mary, nata alla fine dei 40 anni. Lui e sua moglie non avevano fretta di avere figli. Andrew sposò la figlia all'età di 20 anni, rendendola infelice perché aveva altri progetti per la sua vita personale prima di sposarsi. Ma lo studio doveva essere mantenuto. Per un uomo esperto in questo tipo di affari. Mary era più che indifferente al lavoro di una vita del padre. Era destinata a rovinare l'azienda. Andrew ne era assolutamente certo. E William, il coniuge non amato di Mary, era un uomo di razza simile ad Andrew e non avrebbe certo buttato nel cesso la distruzione dell'agenzia. Dovevo mostrare il mio carattere duro perché non vedevo l'ora di allontanarmi da tutti gli affari, di fuggire dal trambusto di Mosca, di respirare la libertà del paradiso terrestre atlantico. Egli assicurava una vita agiata non solo alla figlia, ma anche ai suoi due figli gemelli, nati otto mesi dopo il matrimonio. Ma di cosa hanno bisogno per essere felici? Andrea aveva compiuto la sua missione. Anche se non rispettava l'opinione di Maria. Sapeva che a questo mondo non c'era nulla di più importante del denaro. Tutto, ma non gli sembrava di essere un romantico sputasentenze. Filosofia per fannulloni e sciocchi che fingono di essere mentirette. Il denaro risolve tutto. Punto e basta. Mary andava a trovare il padre a Somerset House ogni due anni, quando si presentava la necessità di recarsi a New York per motivi di agenzia, affittava un'auto e si spingeva fino in Florida. Oggi era il suo terzo viaggio per vedere il padre. Li aveva lasciati sei anni fa, quando i nipoti Jack e Alex avevano appena un anno. Da allora i nipoti non hanno più visto il nonno. Per loro era quasi un personaggio mitico. Ma questo era un bene. Mary la pensava così. Almeno il nonno non avrebbe potuto spaventarli con le sue idee sulla vita. Finché il padre aveva diretto l'azienda, difficilmente aveva dato loro l'attenzione genitoriale che meritavano. L'educazione dei gemelli ricadeva interamente sulle sue spalle. E almeno di questo era felice. Nient'altro portava la luce alla ventottenne Mary quanto i suoi amati e non visibili figli. Erano l'unica ragione per cui tollerava una vita del genere. Era l'unico motivo per cui non aveva mai divorziato da William. Non provò alcun sentimento per lui durante la loro vita condizionata insieme. Capì che William non aveva sposato lei in primo luogo, ma l'azienda. Non tollerava più i bambini, come se fossero ospiti che avevano soggiornato troppo a lungo nella loro casa. La coppia dormiva in camere separate. Facevano colazione e cena a orari diversi e vedevano la tata e la governante più spesso di quanto si vedessero tra loro. Anche al lavoro cercavano di evitarsi. Una volta ogni due o tre mesi, William faceva visita alla moglie di notte per adempiere ai suoi doveri coniugali. Mary tollerava, senza nemmeno cercare di fingere di essere contenta delle sue visite. Anche William non sembrava avere molta passione. Ma per lui era una specie di rito familiare. Per non diventare un perfetto estraneo. Nell'enorme casa a tre piani in Riga Road, che era stata un regalo di nozze dello stesso Andrew. Mary andò da suo padre con il cuore pesante. Non poteva perdonargli di aver creato un'unità familiare artificiale in una società già malata. Tanto più che a ciò aveva contribuito una circostanza molto spiacevole che, quando la ricordava, ogni volta Mary iniziava a piangere con un dolore ancora non rimosso. Proprio ora, il pensiero le faceva venire le lacrime agli occhi. Ok, disse Mary ad alta voce, schiaffeggiando il volante con entrambi i palmi delle mani. Calma, lascia perdere. Ci penserai dopo, non ora. Aveva preso in prestito la frase Pensaci dopo da Rossella in via col vento. Ora l'ho usata con successo in situazioni come questa. Mary era già entrata nel parco della pensione. Parcheggiò l'auto nel parcheggio vicino ai cespugli ben curati e si diresse verso l'ingresso dell'edificio a tre piani, esposto al sole. Dovette controllare il registro dei visitatori e ottenere un pass per l'area in cui si trovavano le ville. Il padre era seduto su una poltrona di vimini nella veranda aperta. Aveva un cappello a tesa larga sugli occhi e un bicchiere con il contenuto finito a metà tra le mani. A quanto pare si era appisolato e non aveva sentito Mary salire sulla veranda. Il papà si avvicinò e gli diede una leggera spinta sulla spalla. L'ospite parlò a bassa voce. Il papà trassalì, si sollevò il cappello con la mano libera e guardò Maria con aria confusa, cercando di capire chi gli stava di fronte. «Mio Dio!» mormorò. «Sono!» «Davvero passati due anni?» «Per alcuni sì», disse Mary. «Per me, personalmente, sono stati più lenti di una tartaruga. Com'era l'inferno?» Suo padre scherzava, ma la sua espressione rimaneva seria. Era il suo solito modo di ingannare sempre il suo interlocutore. «William è il responsabile dell'inferno. Cerco di passare tutto il mio tempo libero con i bambini. Come stanno?» «Questa volta volevano venire con me per vedere finalmente di persona il leggendario nonno. Ma i visti non hanno funzionato. Non hai mai avuto un iPhone?» «No. Papà ha finito il suo bicchiere e l'ha messo sul tavolo. E non ho intenzione di farlo. Tu non lo vuoi, quindi non fingere di aspettare di chiacchierare. Ha maggior ragione se vuoi che mi metta a giocare con i miei nipoti. La conversazione, come al solito, faticava a prendere slancio. Le notizie di due anni di Mary si limitavano a dieci minuti di dialogo noioso. Da mio padre non c'era stato alcun cambiamento. Le giornate qui non erano affatto diverse l'una dall'altra. Era possibile, naturalmente, vivere delle avventure. Ma Andrew preferì d'ora in poi percorrere solo i sentieri erbosi. Gli bastava che il sole sorgesse a est e tramontasse come doveva a ovest. L'intervallo tra questi eventi era spesso occupato dalla contemplazione e dal sonnecchiare con un sigaro in una mano e un bicchiere di Coca-Cola nell'altra. Qui l'alcol non era permesso. Il padre non si fece amici nella pensione e in sei anni non riuscì a ricordare i nomi dei medici, degli addetti alle pulizie, dei massaggiatori e dei volontari che si occupavano di lui. Gli sembrava che cambiassero ogni mese, anche se il più delle volte non era così. Questa volta, però, Mary aveva notato una sorta di disagio e di tensione nel comportamento del padre. Era come se volesse dire alla figlia qualcosa di importante, ma esitasse a farlo. Mary cercò di incalzarlo con le sue domande, ma non riuscì a tirarglielo fuori per il resto della conversazione. Chiacchierarono per due ore. Fu solo. Quando Mary stava per andarsene che Andrew si svegliò, si alzò e disse, aspetta un attimo. Entrò in casa, da dove riapparve un minuto dopo. Porse a Mary un biglietto da visita. Eccolo. Che cos'è? Ho conosciuto una persona. Oh, wow! Mary non è riuscita a trattenersi. Mi stupisci. Sono seria, figlia mia. Credimi, potresti usare i suoi servizi. A cosa mi serve? Chi è? Mary lesse il biglietto. Michael. E sotto c'è il suo numero di telefono. Non per lei, ha spiegato il padre, ma per i tutti. Per quanto ne so, i ragazzi non hanno una guardia del corpo. Ne hanno bisogno? Non sia così negligente. I bambini sono fuori dal mondo ora. La scuola. Sezioni, club e altro. Un autista da solo non è sufficiente per loro. Mi stai spaventando, disse Mary accigliata. William ha risolto le cose con la concorrenza molto tempo fa. Nessuno avrebbe osato violare i suoi figli. O forse ho qualcosa di cui preoccuparmi? Qualcosa è andato storto? Perché questa improvvisa preoccupazione? Quando se ne presenta l'occasione? Dichiarò severamente l'uomo. Sarà troppo tardi. Le raccomando caldamente quest'uomo. Chi è? Perché proprio lui? A Mosca ci sono molte agenzie di sicurezza. Il padre mise una mano sulla spalla di Mary. Capisci che non ti consiglierei mai qualcuno. Gesù, papà. Lo sai come rovini l'umore. Ora non riuscirò a dormire finché non rivedrò i bambini. Scusa, papà è tornato a sedersi. Hai sete? No, grazie. È meglio che vada prima che tu mi faccia altri indovinelli. Devo prendere un aereo. Sì, certo. Beh, ci vediamo tra due anni. Finalmente compro un telefono. Ciao, ciao. E Mary, scendendo abilmente i gradini della veranda senza voltarsi, si allontanò di corsa. Mentre faceva il check-out e si trovava alla reception, un giovane le si avvicinò, sorridendo, e le chiese se fosse la figlia di Andrew. Sì, rispose Mary. E lei è? Sono il suo medico. Si presentò. Rafael. Voleva parlarmi di suo padre? Te ne vai. Lasciami venire con te. Uscirono e si avviarono verso il parcheggio. Immagino, continuò il dottore, che papà non ti abbia detto nulla sulle sue condizioni. Papà non le ha detto una parola sulle sue condizioni. Voglio dire, c'è qualcosa che non va in lui. Lo immaginavo, Rafael scosse la testa. Un uomo molto testardo. Non conosco le ragioni del suo silenzio, ma mi sento in dovere di informarla. Ha avuto un infarto una settimana fa. Un infarto? Dio, è così grave. Tuo padre è un uomo forte, si è ripreso abbastanza velocemente, ma gli esami mostrano che potrebbe non sopravvivere a un secondo attacco. Tienilo a mente. Non lo vai a trovare spesso e lui è nemico di tutte le comunicazioni moderne. Quindi, se dovesse succedere qualcosa, dovrò contattarla io stesso. Lo dico solo perché la mia chiamata non sia una sorpresa per lei. Spero, ovviamente, che non lo sia nel prossimo futuro. Ma comunque... Sì, sì, Mary ha annuito. Grazie per avermelo fatto sapere. Terrò a mente i migliori auspici, Mary. Con un sorriso triste Rafael disse. Arrivederci. E grazie per esserti preso cura di tuo padre. Mary salì in macchina e chiuse gli occhi. Beh, pensò, qualcosa del genere doveva accadere prima o poi. Era qualcosa che suo padre non aveva mai osato dire? O era successo altro che aveva causato il suo infarto? Non aveva detto nulla della cosa principale, ma aveva parlato in tutta serietà di una guardia del corpo. Strano. Mary diede un'altra occhiata al biglietto da visita. Solo il nome e il numero di telefono. Nient'altro. Non capiva. Era solo una coincidenza. Ma suo padre non era il tipo di uomo che dava importanza a cose di poco conto. Doveva comunque mettersi in contatto con questo Michael. Forse lui sapeva qualcosa che suo padre non le stava dicendo. Mary accese il motore e uscì lentamente dal parco della pensione. Doveva sbrigarsi a raggiungere l'aeroporto. Tutta la freddezza che si era instaurata nel rapporto con il padre non era una caratteristica di lei o di lui. O meglio, in parte, Andrew era. Certamente un uomo difficile da trattare con i suoi cari. Ma nel caso di Maria, la ragione si rivelava in un amaro risentimento per il fatto che la donna non era mai riuscita a perdonare definitivamente il padre. Quando aveva 18 anni, ancora al primo anno dell'Università Statale di Mosca, Mary si innamorò di un ragazzo di nome Tim, che studiava in un istituto completamente diverso e aveva 5 anni più di lei. I loro sentimenti reciproci erano pieni di passione sincera e promettevano di trasformarsi in qualcosa di più. Se Andrew non fosse intervenuto, quando Tim si laureò e trovò un lavoro nel suo campo, la questione del matrimonio si sarebbe posta seriamente. Lui chiese a Mary di sposarlo e lei accettò di buon grado, ritenendo di essere abbastanza grande e indipendente da non dover chiedere il permesso ai genitori. La madre, naturalmente, era consapevole delle serie intenzioni della figlia e in generale non era contraria, ma capì la reazione del marito e consigliò a Mary di non affrettarsi. Di dare, come si suol dire, tempo sia ai suoi sentimenti sia alle circostanze sfavorevoli per un passo così importante. Tim era un agente fiscale di professione. I guadagni dei primi anni promettevano di essere un disastro, ma ce l'avrebbero fatta anche senza il sostegno del padre. A Mary mancavano solo tre anni. Ma Andrew aveva già inserito il destino di Mary nei suoi piani, e in quei piani non c'era spazio per persone a caso, tanto meno per persone come Tim. Non volle nemmeno incontrare lo spasimante di Mary. La ragazza dichiarò un boicottaggio. Si chiuse in camera e smise di frequentare le lezioni. Arrivò persino a fare uno sciopero della fame quando Mary ricevette la terribile notizia. Tim era annegato mentre festeggiava sulle rive del fiume con gli amici durante la sua prima vacanza, Mary non riusciva a crederci. Innanzitutto, sapeva che Tim era un ottimo nuotatore, era nato nella città sul Volga prima che la sua famiglia si trasferisse nella capitale. In secondo luogo non beveva mai, quindi la tragedia che era accaduta poteva essere imputata all'alcol. Mary uscì dal suo stato e si precipitò a scoprire la verità dalla famiglia di Tim, ma fu accolta dalla madre addolorata del figlio scomparso. Tuttavia, si è scoperto che non si trattava affatto di uno scherzo crudele, ma di una realtà da incubo. Il corpo di Tim, tuttavia, non è ancora stato ritrovato. Le ricerche sono proseguite per 15 giorni, ma non hanno dato risultati. Mary sperava che si fosse verificata una mostruosa assurdità. Che Tim fosse vivo, ma che per qualche motivo non riuscisse a mettersi in contatto. Rimase al telefono più volte, cercando tra i messaggi e forse tra le chiamate perse. Ma l'ultimo messaggio di beloved era il suo rammarico per il fatto che non sarebbe stata in grado di unirsi all'azienda il giorno della scomparsa di Tim. Si stava prendendo a calci per non aver sputato sul suo orgoglio quella volta e aver lasciato la stanza per vedere il suo ragazzo. Non le sarebbe importato nulla di suo padre. Avrebbe potuto scappare di casa, invece di nascondersi in un angolo come un topo. Ma ora cosa c'è da lamentarsi con se stessa? È già successo. E il tempo non può tornare indietro. Ma succede, non è vero? Le persone perdono la memoria all'improvviso. Tim nuota da qualche parte sull'altra riva. E Bang! Ha dimenticato il suo nome e dove si trovava. Questa era la fantasia di Mary fino alla primavera, quando il corpo di Tim fu recuperato per puro caso. Era stato sepolto in una bara chiusa, poiché a Mary era stato detto che del viso del ragazzo non era rimasto praticamente nulla. Per Mary fu un tale colpo di fulmine che perse conoscenza per sei mesi. Divenne sonnambula, non si interessò più a ciò che accadeva intorno a lei, abbandonò la scuola, tagliò i ponti con i compagni. Non parlò quasi mai con suo padre. In quel periodo morì la madre. Mary fu portata in giro come una bambola, presentata a persone che non significavano nulla per lei, e William era una di queste. Non passò molto tempo prima che si sposassero. La ragazza non pensò a nulla. Non le importava di ciò che le stava accadendo. Un matrimonio. Va bene, così sia. William aveva fatto di tutto nei primi mesi della loro vita insieme per risvegliare Mary dal suo torpore. E per far sì che le piacesse, perché l'intera faccenda del matrimonio era un por violenta. Ma Mary si svegliò solo quando diede. Alla luce due gemelli. Tutti temevano che, nel suo stato di turbamento, non sarebbe stata in grado di partorire. Ma Mary lo fece. Con un mese di anticipo, però. Ma va bene così. I ragazzi vennero al mondo abbastanza sani e non destarono particolari preoccupazioni nei medici. Era Mary a doversi preoccupare. Gli antidepressivi che ora poteva assumere avevano fatto il loro dovere. La donna sembrava aver superato la tristezza che le era rimasta nel profondo del cuore e aver intrapreso una nuova vita. Tutta la sua forza e tutto il suo amore non speso erano rivolti ai suoi figli. Eppure continuava a pensare a Tim più pensava, più diventava certa che fosse morto senza alcuna colpa. Era stato aiutato, sicuramente era stato aiutato. E Andrew era il principale sospettato. Il padre capì di cosa, senza dire una parola, la figlia lo stava accusando. Ma non aveva intenzione di giustificarsi o di dissuaderla. Da allora il divario tra loro era cresciuto e in otto anni non era diventato meno di un metro. La partenza del padre per la Florida era stata in parte il risultato di questa tensione. Mary, naturalmente, non aveva a disposizione alcun elemento per condannare il padre. Potrebbe essersi sbagliata. Forse il padre non c'entrava affatto. La fiducia era diventata meno salda nel corso degli anni, ma la freddezza nel rapporto non si era mai spostata di un grado. Mary tornò a casa, distrutta e preoccupata. Ora era preoccupata per tre cose. Innanzitutto, i bambini e la loro sicurezza. Poi lo strano biglietto da visita di Michael e infine la situazione della filiale di New York della loro agenzia. Era possibile che tutte e tre le cose fossero collegate dallo stesso filo. Mary aveva già sospettato il marito per i disordinati piani finanziari che stava costruendo alle spalle del consiglio di amministrazione e dello stesso Andrew, che, nonostante il suo distacco esteriore, continuava a detenere una quota di controllo. Mary, dalla sua posizione, era una via di mezzo tra un manager e un corriere. Non aveva accesso diretto ai documenti finanziari. Ma quello che aveva a disposizione era sufficiente per sapere che William stava correndo un rischio enorme con l'azienda del padre, cercando di evadere una grossa fetta di tasse. Tutto è iniziato due anni dopo che Andrew si era nascosto in Florida. A quanto pare, aveva commesso un errore con William, affidandogli tutte le principali leve di gestione. Beh, da un lato era bello sapere che anche un uomo così razionale fino all'osso era capace di commettere un errore, ma dall'altro non è che a Mary dispiacesse per suo padre o per il suo mostro pubblicitario. Era solo che era sgradevole far parte di quella sporca macchina. Al padre, naturalmente, non disse nulla dei suoi sospetti. Lui stesso aveva scelto questa strada, aveva scelto di fidarsi di William. E nel frattempo, l'aveva anche gettata in compagnia di questo sconosciuto poco affettuoso. Nel profondo del suo cuore desiderava addirittura che la torre di Babele crollasse e seppellisse sotto di sé tutti questi parassiti che vi erano risucchiati, in preda a una sete irrefrenabile di saziare la loro carne. Avrebbe vissuto con o senza lo studio, con o senza William, purché i suoi figli rimanessero al suo fianco e non accadesse loro nulla. Forse anche il padre aveva intuito in qualche modo lo stato delle cose dell'agenzia e quindi si era preoccupato in anticipo della sicurezza dei nipoti. Dopotutto, se questa torre dà un'inclinazione, arriveranno orde di concorrenti invidiosi e risentiti con tutti i loro PMC e avvocati senza scrupoli. Per questo grumo di grasso inizierà la vera guerra. I bambini, grazie a Dio, stavano bene. Stavano per iniziare le vacanze, le prime vacanze estive della loro vita, che all'improvviso li lasciarono perplessi per un anno intero con il cumulo di nuove responsabilità che avevano sognato. E William fu colto da Mary in uno stato d'animo insolito per lui. Anche se a sua moglie sembrò un po' rfinto. «Com'è? Andato il viaggio?» chiese mentre cenavano insieme per la prima volta dopo anni. «Come sta tuo padre?» Di solito sì, Mary scrollò le spalle, molto stanca. «Anch'io avrei bisogno di una vacanza adesso.» I bambini risero mentre sbattevano i piatti con i cucchiai. Mary era sollevata. «Sapete», disse William entusiasta. «Ho un'idea». «Che cos'è? Andiamo a Dubai per una settimana». «A Dubai!» Mary rimase sorpresa. I bambini si bloccarono, fissando intensamente il padre. «Jack, Alex». William chiese «Che ne direste di andare in spiaggia?» I ragazzi gettarono sincronicamente i cucchiai e alzarono le mani in segno di incoraggiamento e di entusiasmo per le avventure che stavano per intraprendere. Finora non avevano mai lasciato mosca e avevano visto il mare solo in televisione. «Prendiamo un volo privato», aggiunse William. «Senza tutte le complicazioni, senza passeggeri in più, circondati dal personale più cordiale del mondo». Allontanarsi dalla metropoli che cominciava a riscaldare il suo tubo di cemento, con il caldo che si faceva sentire, sarebbe stato meraviglioso. «Ma perché Dubai?» Mary pensò tra sé e sé. «Lì deve fare ancora più caldo». «E tutto ciò che di artificiale c'è in giro è finto, con l'unico scopo di stupire l'immaginazione umana con un livello di tecnologia e di comfort impensabile 50 anni fa in mezzo al deserto. A Mary piacerebbe andare da qualche parte in campagna, adesso. Pless, per esempio. Una cittadina sperduta sulle rive del Volga, che altrimenti potrebbe trasformarsi in una Nizza russa, ma che per fortuna ha conservato il suo comfort incontaminato. E quasi deserta, anche in piena estate. Mary era stata a Pless due volte, una volta con suo padre da bambina e un'altra due anni fa per lavoro. E la città l'aveva impressionata. Anche se rispetto ai tempi dell'Unione Sovietica, come le avevano raccontato i vecchi, era diventata un po' orfatiscente, diventando più un quadro e perdendo il suo contenuto di un tempo. Ma Mary ricordava che durante il suo secondo viaggio aveva pensato di comprare una casa da qualche parte su una collina che dominava il fiume e di rimanere qui per sempre. Oh, come doveva essere bello. Silenzio. Grazia. Nessun trambusto. E tutto intorno c'è la natura, decantata dallo stesso Levitan. E i bambini l'avrebbero adorato. Sono cresciuti in modo semplice, incontaminato e amando le bellezze naturali del mondo. Maria sapeva che il terzo giorno Dubai li avrebbe delusi. Ma non c'era certo altra scelta ora. Se avesse balbettato a questo punto di plesa, William l'avrebbe guardata come se fosse pazza. Lui era di un altro tipo, molto diverso. Fecero le valigie in fretta, prendendo solo un paio di valigie con l'essenziale. Sull'aereo, Mary dormì cullata dal ronzio sommesso e dalle esclamazioni di gioia dei suoi figli che vedevano per la prima volta la terra da una tale altezza. All'aeroporto furono accolti da una limusine bianca di incredibile lunghezza che li portò all'hotel Burjell Arab. L'edificio era un punto di riferimento a Dubai, avendo ricevuto una valutazione senza precedenti di sette stelle dai giornalisti. A 280 metri di profondità, su un'isola artificiale, assomigliava a un enorme veliero alto 321 metri, al cui interno si trovavano le suite più costose del mondo, con vista sull'oceano da un lato e sulla città punteggiata di grattacieli dall'altro. La loro stanza era a due piani. Al piano inferiore c'era una grande sala comune con finestre panoramiche per tutta la larghezza della parete. Con divani, tavoli, tappeti e fronzoli di design in stile arabo. Al primo piano c'erano le camere da letto e due bagni spaziosi, uno dei quali aveva una vasca idromassaggio a forma di piscina rotonda in marmo. Mary ha preso da un opuscolo pubblicitario che i costruttori hanno utilizzato 8000 metri quadrati di foglia d'oro a 22 carati per decorare gli interni dell'hotel. Ma perché spendere così tanto per questa stanza? Mary, perplessa. William non era mai stato noto per essere particolarmente sfarzoso. Improvvisamente, si trattava di un trucco. Jack e Alex rimasero a bocca aperta per quello che videro. Fin dal primo istante si misero a correre per la stanza, esplorandone ogni angolo. Mary temeva che nella concitazione avrebbero sbattuto la testa su una delle scale o urtato contro un oggetto. Ma il volo, il cambiamento di clima e l'eccitazione alle due del pomeriggio li avevano stancati. Erano diventati letargici e cominciavano a sbadigliare. Mary li lavò, li portò in camera e li mise a letto. Quando scese al piano di sotto, trovò William vicino alla finestra con un posacenere e una sigaretta in mano. Anche lei si sentì stanca, sbadigliò, scosse la testa e si avvicinò al coniuge. L'allegria artificiosa che ultimamente aveva emanato William era sparita dal suo volto. Era di nuovo teso. La sua fronte si aggrottò e i suoi movimenti divennero nervosi. Qual è il problema? Gli chiese Mary. Lui rimase in silenzio. Guardò Mary con uno sguardo distaccato, ma studioso. Sei pallida. Cosa c'è che non va? Sono stanca. Voglio parlarti di una cosa. Disse con un'espressione seria. Ecco. Un brivido corse lungo la schiena di Mary. Di cosa? Di Jack e Alex. Ora, pensò Mary. Ecco, ci siamo. Non ho mai capito. William continuò. Che tipo di personaggi hanno? Che tipo di carattere? Non sono affatto come i miei. Aspetti, guardi, è una cosa seria. Non c'è nulla di me nemmeno nel loro aspetto esteriore. Ho sempre pensato che fossero tutti te. Ma non hai il romanticismo e la semplicità che hanno loro. Certo, non ti conoscevo nemmeno come eri prima dell'incidente. Prima di quale incidente? Con il tuo ex fidanzato. William fece una smorfia, come se stesse parlando di qualcosa di disgustoso. Tim? Chiese Mary, spaventata dal suono del nome che aveva appena pronunciato. Non so come si chiami, credo che tu non ti sia vista dall'esterno. E non ho sposato un uomo, ho sposato la tua ombra. Per tutto questo tempo ho cercato di capire cosa. Fossi veramente. Ma non ci sono riuscita. Credo che quella parte di te sia morta molto tempo fa. Perché stiamo facendo questa conversazione? William, non capisco. William guardò meglio il volto di Mary. Forse non capisci. Così come io non capisco te. Comunque, mi sono stancato di avere dei dubbi e ho deciso di fare il test del DNA. Cosa? Jack e Alex non sono miei figli. Ecco cosa. Con me. Mary non riusciva a credere a quello che stava sentendo. Non che i ragazzi potessero avere un padre diverso. Non che William avesse deciso in segreto di scoprirlo. Di certo, come donna, avrebbe dovuto intuire che tutte le donne, almeno in fondo alla mente, capiscono da chi nascono le loro figlie. Ma in quel momento non era del tutto consapevole di sé. Aveva vissuto nella nebbia per un anno e mezzo, e per lei le parole di William erano ora una vera e propria rivelazione. Più e più volte Mary cercò di dire qualcosa, persa nei suoi pensieri. Non posso crederci. Nemmeno io, William scosse la testa. Si voltò e accese una nuova sigaretta. Il suo pesante sospiro fece volare via la cenere dal posacenere e la fece cadere in fiocchi grigi sul tappeto bianco. Una settimana a Dubai nelle nuove circostanze era già una tortura. Ora era chiaro perché William si era speso così tanto. A quanto pareva, voleva addolcire la notizia a Mary. O forse voleva trasformare tutti i sette giorni in una tortura per lei. Temeva che, se fossero rimasti a riga, lei sarebbe uscita di casa nella foga del momento. E che portasse con sé i bambini? Che cosa avesse in mente quell'uomo era un mistero irrisolto per Mary? L'eccitazione del Burge e l'Arab era ovunque. La maggior parte dei turisti era lì, come Mary, per la prima volta. Un brutale Don Giovanni che, guarda caso, valeva una fortuna. Le loro fidanzate, eccitate, spazzate via dal vento contrario e pronte a scappare di nuovo da un momento all'altro. Vecchi ricchi che fingono di aver visto molte cose del genere nella loro vita e rimpiangono i soldi spesi per tutte quelle sciocchezze. Persino gli sciicchi arabi, per i quali una vita del genere era diventata abituale molto tempo fa, cercavano di dare una maestosa indifferenza al loro aspetto. Anche se in cuor loro dovevano gioire come bambini. C'era finzione e falsità ovunque. Il lusso premeva su ogni cellula dell'essere. E la disparità tra ciò che si riceveva e ciò che si spendeva sì. Rovesciava. E Maria era ancora più irritata da tutto questo. E la cosa peggiore era che anche lei doveva indossare una maschera. Fingere di essere felice per il bene dei bambini. I ragazzi non avrebbero dovuto sospettare un trucco, perché solo anime così innocenti erano in grado di dare per scontate tutte queste false decorazioni, trovando in esse cose che sfuggivano allo sguardo nervoso degli adulti. Era la loro prima vera vacanza. E Mary sfoderava un sorriso, trattenendo di tanto in tanto le lacrime che sembravano occhi. Cercava di divertirsi il più possibile. E di notte le faceva male il viso e le radici dei capelli le giravano in testa con aghi roventi. Come se dirigessero i loro sforzi non verso l'esterno ma verso l'interno e cercassero di raggiungere il suo cervello con uno shalom velenoso. Temeva di scattare e di fare i capricci. Sarebbe bastato un rimprovero di William, una sua parola incauta. Il suo tocco inappropriato nella situazione attuale. Ma per fortuna c'erano quattro camere da letto al primo piano. E la coppia non si incrociava di notte. Era evidente che anche William era ansioso di concludere questa stupida vacanza. Forse non poteva prevedere che la conversazione del primo giorno con la moglie avrebbe avuto un effetto così angosciante su di lui. In sette giorni lui e Mary avevano scambiato solo poche parole. Per la maggior parte del tempo erano rimasti in silenzio, abbandonandosi ai soliti piaceri turistici. Jack e Alex, grazie a Dio, prestavano poca attenzione al padre. Da tempo si erano abituati al suo aspetto severo e al suo silenzio. Sarebbero stati più sorpresi e diffidenti se all'improvviso avesse mostrato un interesse insolito per loro. La tortura finì quando l'aereo atterrò a Sheremetievo, ora era possibile fare cose vere, togliersi la maschera e diventare se stessi. E la prima di quelle reali era il desiderio di chiamare il misterioso Michael e organizzare un incontro. Dopotutto, Andrew stava sicuramente indovinando qualcosa. Ora Mary non aveva più dubbi. Non capiva ancora come un uragano nato in un luogo lontano potesse minacciare i suoi ragazzi. Ma la costruzione di muri protettivi doveva iniziare adesso. Alla prima occasione Mary compose il numero sul suo biglietto da visita, ma dall'altra parte non rispose nessuno. Non arrivò nemmeno la voce della segreteria telefonica. Allora chiamò ancora e ancora, ma senza successo. Sul calendario era domenica. Forse la domenica questo Michael preferiva isolarsi dal mondo. Perché era così preoccupata? Chiamerà domani, se sarà necessario, chiamerà senza sosta. Prima o poi qualcuno dovrà rispondere. Poiché Mary non aveva fatto nemmeno un pisolino durante il giorno, verso mezzanotte si accasciò sul letto e cadde immediatamente in un sonno profondo, nero e pieno di terrore, svegliata dallo sgradevole scivolare della mano di qualcuno sul suo corpo. Apri gli occhi e vide davanti a sé il volto eccitato di William, che stava salendo sul letto e le passava le mani sui seni e sulle cosce. Saltò in piedi e cominciò a scalciare via goffamente, colpendo con il gomito l'angolo del comodino. Mary gridò di dolore. Un palmo caldo e umido le coprì immediatamente le labbra. SHH, sibilò William, sono stato io, calmati. Che cosa vuoi? Perché sei qui? Sono tuo marito, sibilò, con l'alito impregnato di fumi di brandy e tabacco. L'uomo parlò con una voce a me quasi sconosciuta. Non ti ho chiamato. Mary continuava a sottrarsi alla sua presa. Hai perso completamente la testa. Allontanati da me. Qual è il tuo problema? William alzò la voce. La ferrò per le spalle, la strinse al materasso e si mise a vegliare su di lei come una roccia. Anch'io voglio avere un figlio, disse. Vedi, un figlio mio. Dobbiamo farlo con te. Non posso fare altrimenti. Non voglio che tutto vada ad altre persone. Che gente, di cosa stai parlando, mi stai facendo male. Sai cosa voglio dire? Svegliati. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Svegliati. Non posso vivere così. Non posso farlo. Ora. Sono sempre circondata da estranei. Stai delirando. Le lacrime scendono dagli occhi di Mary per il dolore e la disperazione. Accetterò il fatto che tu non mi ami e non mi hai mai amato. Quindi lascia che non mi interessi. Mi abituerò persino ai tuoi figli. Non dirò loro una parola su quello che ti ho detto a Dubai, te lo prometto. Ma anch'io ho bisogno di qualcuno vicino a me. Sono stanca. Stanco, Mary. Le labbra umide di William vagavano in modo irregolare sul viso di Mary. Quasi svenne per l'orrore e l'inconcepibilità di ciò che stava accadendo. Con un ultimo sforzo di volontà, la donna riuscì a liberarsi dalla morsa dell'affranto William. Saltò giù dal letto e inciampò all'indietro, tra le sedie e i vestiti sparsi sul pavimento, verso l'uscita. Ma William, come una bestia da preda, percepì che la sua preda si stava allontanando. Anche lui saltò in piedi e cercò di trascinare Mary verso il letto. Lei voleva gridare per chiedere aiuto, ma temeva che le urla si sarebbero sentite nella stanza dei bambini, così resistette il più possibile in silenzio. William si infuriò completamente. Cominciava a rendersi conto che in ogni caso non avrebbe ottenuto nulla da sua moglie in quel modo. Alla fine la lasciò andare, si bloccò per un secondo. Poi, con tutta la sua forza, le diede un pugno sul naso. Davanti agli occhi di Mary balenarono scintille luminose. E mise un rantolo e ruzzolò all'indietro, cercando qualcosa a cui aggrapparsi. Ma le sue mani non riuscirono a trovare alcun sostegno. Battè la testa sul comodino e gli occhi le si oscurarono. Si svegliò verso le quattro del mattino. Fuori c'era luce. La finestra della camera da letto era leggermente aperta e nella stanza soffiavano freddi getti di vento. Mary era sdraiata nel suo letto, coperta da una coperta. La sua testa ronzava nella zona del naso come se il suo cuore stesse battendo, riverberando in tutto il corpo un dolore sordo. Si toccò la mano sul viso e il dolore divenne subito acuto. Che! Bastardo! Il dolore le attraversò la testa. Si era rotto il naso? Mary cercò di alzarsi. Gli occhi le si oscurarono mentre annaspava per prendere le pantofole. Si alzò con cautela. È tutto a posto, sopravviverà. Barcollò fino al bagno. Si guardò allo specchio. Si, aveva il naso rotto, una sottile linea di sangue a un centimetro dal ponte del naso. Stranamente, il viso non era gonfio come si aspettava. Cosa avrebbe detto ai bambini? Come avrebbe spiegato? Camminare, scivolare, cadere. Che sciocchezza! Mary sorrise e fece di nuovo una smorfia di dolore. Sorpresa dalla sua esplosione di divertimento, si sentì alleggerire, contro il suo giudizio. Ora tutti i punti erano stati chiariti. William aveva rivelato la sua natura mostruosa in tutta la sua inesteticità. Non c'era bisogno di tirare a indovinare o di dubitare. Ora lo sapeva con certezza. I bambini devono essere protetti. E non sarebbe stato male pensare a una propria linea d'azione. Da ieri sera non è più una moglie. Non resta che renderlo visibile. C'è ancora tempo per pensarci. Prima di tutto, Jack, Alex e Michael. Dopo essersi messa in ordine e averabilmente mascherato la ferita sotto uno strato di trucco. Mary uscì dalla camera da letto. È un por presto per svegliare i bambini. Sono le sette del mattino. Anche loro devono essere esausti per il volo. La casa sembrava completamente estranea e naturalmente fredda, non si sentiva un suono. Dopo un minuto di silenzio inquietante, un piccolo campanello suonò. Da qualche parte, nei pressi della sala da pranzo, il gatto di Tisha stava correndo. Mary si avvicinò al suono, Tisha era sdraiata accanto a una ciotola vuota, con il muso appoggiato sulle zampe anteriori e muoveva le orecchie. Mary la accarezzò, mise del cibo nella ciotola e decise di prepararsi un caffè più forte. Le venne una gran voglia di fumare. Non fumava da quando era una studentessa e non aveva mai sentito questa voglia prima di questa mattina. Ma ora era insopportabile. Mary. Finì il caffè e rovistò nella sala da pranzo, poi nella veranda dove William era solito fumare, ma non riuscì a trovare una sigaretta. Si infilò il poncio e uscì nel cortile, sperando di vedere un giardiniere o qualcuno del personale per strappargli una sigaretta. Davanti alla casa sembrava esserci solo un'auto. Un minuto dopo, il giovane autista scese e si diresse in direzione di Maria. Durante il tragitto inciampò due volte. «Buongiorno, Mary!» disse. Gli occhi gli tremolavano confusamente, incapaci di concentrarsi a lungo su una cosa sola. «Ciao, Oliver!» Lo salutò Mary. «Vuoi qualcosa?» «Sì!» Il ragazzo si alzò in piedi. «Ecco come stanno le cose. William mi ha detto di parlarne con te. Ha detto che la decisione spetta a te. Cosa importa?» «Me ne vado, Mary.» «Lasciare dove?» «Voglio dire che me ne vado.» «Ah, sì!» «È successo qualcosa?» «Beh, sai, è un'emergenza familiare.» «È urgente.» «Preferibilmente oggi.» «Ma posso aspettare fino a domani.» «Mi dispiace.» «È stato un imprevisto.» «Capisco.» «Fuma.» «Cosa? Hai una sigaretta?» «No.» Oliver si è controllato le tasche per fare chiarezza e ha guardato Mary con sorpresa. «Allora, che ne di?» Mary sospirò pesantemente. «Probabilmente era meglio così, davvero.» «Non c'era bisogno di spiegare a quel bastardo di William da dove venisse il nuovo autista.» «Era stato lui stesso a mandarle Oliver.» «Vorrei solo che Michael le rispondesse questa volta.» «E allora, Oliver, Mary scrollò le spalle.» «È necessario.» «Non oso trattenerla.» «Puoi farti dare i soldi e i documenti da Alice.» «Grazie, come si dice, per il vostro servizio.» «Anche Oliver si sentì sollevato.» «Non ti ho mai visto con una sigaretta prima d'ora.» «Disse con voce allegra.» «Tu fumi.» «Oggi ho voglia di fumare.» «Se vuoi te ne vado a prendere una.» «Che tipo di sigaretta fumi?» «Non so, compro qualcosa di più leggero, se non è troppo disturbo.» «Le porterò i soldi.» «Non si preoccupi, non ha bisogno di soldi.» «Torno subito.» Oliver tornò di corsa alla macchina e un minuto dopo sparì dietro l'angolo. Tornò molto velocemente e riportò tre pacchetti di francobolli diversi. Mary ringraziò Oliver, uscì in veranda, si accese una sigaretta e prese il telefono. Il fumo la calmò un po'. Le sembrava di avere la testa piena di ovatta. Guardò di nuovo l'orologio alle sette e mezza. Chiamò Michael. «Sì, sentì una voce sicura» disse all'altro capo. «Pronto.» Mary espirò nel ricevitore, spegnendo la sigaretta. «Parlo con Michael.» «Sì, salve.» «Mi chiamo Mary.» «Endrio mi ha dato il suo biglietto da visita.» «Fornite ancora servizi di guardia del corpo.» Michael fece una pausa al telefono e si sentì un forte clacson. «Che stronzo.» Imprecò l'uomo. «Scusi.» «Mi scusi», sorrise un po' l'uomo al telefono. «Non stavo parlando con lei.» «Sono al volante.» «Una signora ha confuso la destra con la sinistra.» «Le serve una guardia del corpo.» «Non io.» «I miei figli sono due ragazzi di sette anni.» «Lei è anche l'autista.» «Mi ha sentito.» «Sì, guido e faccio la guardia.» «Possiamo incontrarci e discutere i dettagli del lavoro.» «Sì, possiamo.» «Posso venire subito, se le fa comodo.» «Quanto è lontano dalla città.» «Sono a riga.» «Beh, non sono lontano, a circa 15 minuti di distanza.» «È fantastico.» «Mary era felicissima.» «Allora le darò l'indirizzo e l'aspetterò.» «Va bene, vai pure.» 20 minuti dopo una Toyota argentata varcò il cancello. Ne scese un uomo alto sulla trentina.» «Era piuttosto difficile stabilire la sua età esatta, perché la sua andatura pesante e il suo viso, sfigurato da orribili cicatrici, lo rendevano piuttosto vecchio.» «Anche il cranio, completamente privo di capelli, portava i segni di una profonda incisione.» «Ma nonostante l'aspetto intimidatorio, fin dai primi minuti Michael fu stranamente attratto da Mary.» «C'era qualcosa di rilassante in lui.» «E alcuni suoi modi e gesti.» «Le sue intonazioni ed espressioni le sembravano familiari, come se avesse incontrato una vecchia conoscenza.» «Si sedettero nella sala da pranzo e bevero un caffè.» «Mary continuava a fumare una sigaretta dopo l'altra.» «Cercava di calmare la sua immaginazione errante.» «Come fai a conoscere mio padre?» «Chiese Mary.» «Andrew, ci siamo incontrati circa tre mesi fa per lavoro.» «Ero in viaggio d'affari in Florida.» «È per questo che te lo chiedo, chiari Mary, perché non è tipico che si fidi di persone che non conosce, se si fida di qualcuno.» «E lei era quella che gli aveva caldamente raccomandato.» Michael sorrise all'angolo delle labbra. Dio, anche il suo sorriso ricordava a Mary qualcosa di già dolorosamente familiare. «Immagino.» «Scrollò le spalle l'uomo.» «Aveva le sue ragioni.» «Non ci eravamo già incontrati?» All'improvviso Mary sbottò. Michael trassalì sottilmente. «Sa, disse, nel corso della mia vita ho avuto molti contatti con persone di ogni tipo.» «Prima di concentrarmi sulla sicurezza.» «È possibile che ci siamo incontrati da qualche parte.» «E qual era il suo lavoro prima di allora?» «Una specie di detective.» «In effetti, un'indagine prolungata mi ha portato a Somerset House.» «Andrew mi ha aiutato molto in quel caso.» «E il suo viso?» «La spaventa?» «No, no, mi dispiace.» «Probabilmente è scortese da parte mia chiedere queste cose.» «Mi creda, è un grande vantaggio per una guardia del corpo avere una faccia come quella.» «Spesso un conflitto può essere risolto prima che diventi troppo acceso.» «E la causa del trauma è stato un banale incidente d'auto.» «Non è stata colpa mia.» «Ero un passeggero.» «Potete stare tranquilli sulle mie capacità di guida.» «Nel mio archivio troverà le referenze dei miei ultimi lavori.» «Sono disponibile in questo momento.» «Se è soddisfatto, mi chiami.» «La aspetto.» «Vi aspetto.» «In quel momento Jack e Alex salirono di corsa le scale, ridendo e sbattendo i piedi nudi sui gradini.» «Mamma, perché non ci hai svegliato.» «Gridò Alex con rimprovero.» «Non avevi dimenticato che giorno era.» «Mary si alzò e afferrò i ragazzi che le erano saltati addosso.» «Che giorno è?» «Chiese.» «Beh, mamma.» «Jack la guardò severo.» «Avevi promesso che oggi saremmo andati al parco acquatico.» «Te ne sei dimenticata.» «Perché sei a piedi nudi.» «Mettiti le ciabatte.» «Poi ci laviamo e facciamo colazione.» «E poi parleremo del parco acquatico.» «E chi saluterà l'ospite?» «Oh, che ragazzi maleducati.» «I bambini alzarono lo sguardo da dietro Mary e fissarono curiosi Michael.» «Ciao.» «Dissero entrambi contemporaneamente.» «Salve», rispose Michael con altrettanta curiosità. Guardando i bambini. «Questo è Michael.» «La madre presentò il suo ospite.» «Forse presto prenderà il posto di Oliver.» «Cosa è successo allo zio Oliver?» chiese Alex. «Niente di che.» «Aveva solo degli affari urgenti da sbrigare.» «Ma tornate nelle vostre stanze e vestitevi.» «Io vi preparo la colazione.» I bambini fecero lo stesso rumore e tornarono al piano di sopra. Margaret era incaricata di cucinare in casa. Ma non arrivava prima delle dieci del mattino per preparare il pranzo e la cena. La colazione era sempre di competenza di Mary, che usciva al lavoro più tardi di quanto i bambini andassero a scuola. Ecco, di nuovo sulla sedia di Mary. In effetti, è la prima presentazione. «Bei ragazzi.» Disse Michael pensieroso. «Beh, non vi tratterrò oltre.» «Chiamami a questo numero.» Disse l'uomo allungando un altro biglietto da visita. «Sono sempre in contatto con questo numero non appena la Toyota argentata ha lasciato il terreno del cottage.» Mary sapeva che Michael avrebbe lavorato per loro. Questa sua fiducia era inspiegabile dal punto di vista logico. Quell'uomo ispirava semplicemente fiducia senza alcun motivo razionale. Mary sfogliò distrattamente i fogli che lui aveva lasciato con il suo curriculum e le sue referenze. Miracolosamente, il suo cuore si sentì in pace, sia per i bambini che per se stessa. Anche nei confronti del padre provò una gratitudine inimmaginabile prima. Era come se avesse ripreso il vento nella sua vela, che fino a quel momento aveva soffiato da qualsiasi parte tranne che dalla direzione giusta. Victor, dopo quella sfortunata notte, si era completamente ritirato, sembrava che si fosse completamente staccato dalla vita familiare. Persino Michael continuava a chiamare Oliver per abitudine, anche se era difficile non notare la netta differenza tra questi autisti. Nei tre mesi d'estate che volarono come un giorno, William non cercò più, con la forza o con il passaparola, di convincere Mary della necessità di un terzo figlio. A volte spariva per un'intera settimana e poi riappariva come se nulla fosse. Salutava seccamente e si ritirava nel suo ufficio. I bambini, che in precedenza non gli avevano mai prestato particolare attenzione, non notarono il cambiamento del padre. Michael, il cui volto all'inizio li aveva spaventati, era diventato presto simpatico. Era diventato non solo la loro guardia del corpo, ma anche la loro vera e propria balia. Ora trascorrevano la maggior parte del loro tempo libero non con Mary, ma con lui. Una volta ogni 15 giorni Michael si prendeva un giorno di riposo e i ragazzi dovevano restare nel cottage, contando le ore che li separavano dal loro nuovo idolo. E a settembre iniziò la monotona routine, la vacanza prolungata di Mary era finita, le vacanze erano finite e cominciavano la scuola, la sezione e i club. Così com'era, la vita di Mary andava benissimo. A volte pensava che sarebbe stato bello se William si fosse allontanato del tutto da loro. Michael, invece, avrebbe vissuto in una delle stanze riservate agli ospiti più preziosi. Di notte, fantasticava su di lui che si intrufolava nella sua camera da letto e faceva l'amore con lui. Il desiderio ardente di intimità fisica con quest'uomo non la abbandonava durante il giorno. Cominciò a pensare che Michael lo sentisse. Ma più Mary cercava di nascondere i segni della sua infatuazione nella conversazione, più chiaramente rivelava i suoi sentimenti segreti. Michael cercava di evitare il contatto visivo con lei. A quanto pare, aveva paura di quello che sarebbe potuto accadere. Mary si rimproverava, dandole mentalmente della sciocca. Ma a metà del primo mese d'autunno si rese conto di essere finalmente nei guai. Si rese anche conto che se Michael avesse ricambiato, William l'avrebbe sicuramente scoperto, e nessuna cicatrice, nessun coraggio e nessun legame avrebbero aiutato Michael. Nonostante i blocchi di ghiaccio, il rapporto di coppia si è incrinato. Il marito non permetteva a nessuno di violare la sua proprietà. E Mary era ciò che lui considerava la sua proprietà e nient'altro. Mary sapeva in prima persona quanto potesse essere crudele con chi osava mettersi sulla sua strada. La serenità che si era instaurata nel suo animo cominciò ad evaporare. La trappola in cui era rimasta intrappolata non era scomparsa. Solo che per un po' non se ne era accorta. Non erano solo Alex e Jack a essere ancora in pericolo, ma anche Michael e lei stessa. Bisognava fare qualcosa. Bisognava fare qualcosa per questa infinita confusione di paure. La sua mente cominciò a lampeggiare come un'allucinazione. Le idee più orribili la facevano sudare freddo. Mary era chiaramente consapevole che stava per prendere la misura più estrema possibile. O sarebbe scappata in capo al mondo con i bambini, oppure. No. No. No, con chi li avrebbe lasciati se fosse finita dietro le sbarre. Deve esserci un altro modo. Deve esserci. Forse dovrebbe chiedere aiuto a suo padre. Probabilmente sa più di quanto dice e ha ancora il potere di risolvere un problema del genere. Durante la notte era scoppiato un temporale, l'estate indiana era finita e il suo ultimo giorno era destinato a essere ricordato da persone come questa, con tuoni e lampi che attraversavano il cielo, con acquazzoni che battevano sui tetti. Mary non riusciva a dormire. Si girava e rigirava, apriva la finestra e fumava nella sua camera da letto. Poi corse a controllare i suoi ragazzi. Forse erano spaventati e tremavano di paura. Ma i ragazzi dormivano profondamente, incuranti della tempesta fuori casa. Felì. Finché non hanno intravisto quello che Mary stava immaginando. Ma prima o poi queste mura, che lei era ancora in grado di proteggere, sarebbero venute meno e loro avrebbero dovuto fuggire o difendersi come meglio potevano, confidando in Dio. Dopo aver trascorso cinque minuti distratti nella nursery, Mary tornò nella sua stanza e vide lo schermo del telefono accendersi. Un secondo dopo squillò il telefono. Chi aveva bisogno di lei a luna di notte? Il cuore le. Si strinse nel petto. Mary alzò la cornetta. Pronto? Mary. La voce disse con un accento inglese familiare e il cuore della donna ebbe un sussulto, prevedendo problemi. Rafael. Mi dispiace disturbarti, non so che ora sia a Mosca, ma ho delle notizie su tuo padre. Mi dispiace doverne parlare. Mary rimase in silenzio, aspettando di sentire la temuta parola a morto. Rabbrivi di. All'esterno, rimbombando in modo da poter sentire più di una volta le ultime parole di Rafael. Rafael, si svegliò. Non ho capito cosa hai appena detto. Andrew ha avuto una seconda crisi epilettica. Il dottore ripetè. Temo che non resisterà ancora per molto. È meglio che tu venga. Avrai il tempo di dirgli addio. A volte riprende conoscenza e mi ha chiesto di chiamarla. Sì, sì, partirò domani, Rafael. Sbrigati, Mary. Arrivederci. Com'è possibile che proprio quando Mary aveva bisogno di suo padre, lui abbia deciso di scappare di nuovo e ora per sempre. Anche dopo aver subito un infarto. Le sembrava forte e robusto. Se non fosse stato per l'abisso che li separava, avrebbe potuto ammirare la sua resistenza e la sua sanità mentale. Ma all'improvviso, nel momento più inopportuno, la vita lo aveva spezzato. Mary non chiuse occhio fino al mattino. Guardava l'orologio ogni cinque minuti, in attesa di andare all'aeroporto. Alle cinque del mattino non ce la fece più e chiamò Michael. Gli chiese di accompagnarla. Voleva passare qualche minuto con lui prima del volo. Durante il tragitto, Mary gli raccontò non solo quello che era successo, ma anche quello che sarebbe potuto succedere, e quello che sarebbe successo sarebbe stata una guerra molto reale all'interno del consiglio di amministrazione. Il attore più pericoloso nella ridistribuzione della proprietà e del potere si sarebbe rivelato William. Forse, forse anche di sicuro. Il padre era riuscito a riemettere legalmente la quota di controllo e ora tutto dipendeva da chi l'avrebbe posseduta. Se fosse stato William, cosa di cui Mary aveva ora. Motivo di dubitare, forse sarebbe stato meglio così. Avrebbe smesso di prestare attenzione a lei e ai bambini, concentrandosi sul suo potere e sulle prospettive che si aprivano. Ma se ora era lei la proprietaria. Il pensiero le fece venire i brividi. Tu, Mary, disse Michael con calma a tutte queste rivelazioni, non metterti in un angolo troppo presto. Non guardare così lontano e sarà sempre sufficiente. Ci sono troppe incognite in questa equazione. Mary non capì particolarmente questa sua osservazione filosofica. Nella sua testa era già tutto confuso e sottosopra. Ma il fatto stesso che Michael rimanesse calmo e parlasse con convinzione la rassicurò un po'. «Devo chiederti, Michael, di stare particolarmente attento a Jack e Alex mentre io non sono qui. Puoi contare su di me, ti assicuro che andrà tutto bene». Michael lo disse come se fosse l'unico responsabile di tutta questa situazione emergente. A Mary sembrò che non fosse solo una frase di routine, come di solito si rassicura un interlocutore confuso, ma la consapevolezza assoluta che sarebbe andato tutto bene. La donna guardò Michael con sorpresa, lui non cambiò volto né si voltò. Il suo profilo sembrava scolpito dalla mano di un ingegnoso scultore in abbozzo. Ciò faceva sembrare l'incompletezza particolarmente splendida. No, dovevano essersi già incontrati da qualche parte. Forse in una vita passata. Mary rabbrividì per i sentimenti contrastanti che oscillavano tra la paura e la fiducia in un esito migliore. Si fermarono all'aeroporto. Michael prese una piccola borsa a rotelle dal bagagliaio e accompagnò Mary fino al terminal. Lei non resistette a baciarlo sulla guancia prima di salutarlo. Come avrebbe voluto che potessero volare insieme ora? Se non fosse stato per i bambini, gli avrebbe sicuramente chiesto di farlo. E sapeva che lui non avrebbe potuto rifiutarsi. Ma Jack e Alex avevano più bisogno di Michael in questo momento. La Somerset House la accolse con un freddo mattutino e un cello. Sereno. Mary aveva chiamato Raffaele in anticipo perché arrivasse presto alla pensione e la incontrasse fuori dalla villa del padre. Quando si avvicinò alla casa con la piccola piscina nel cortile e con tre palme stentate oscenamente folte nelle comlette, il dottore la stava già aspettando. Si salutarono ed entrarono in casa. Suo padre era sdraiato a letto, arredato con attrezzature mediche ai lati e nella testata. Una giovane infermiera si affannava nella stanza. Quando Raffaele e Mary entrarono, si ritirò. Suo padre era cambiato in modo irriconoscibile nei mesi trascorsi dall'ultima volta che l'aveva visto. Il suo viso era diventato magro, la pelle era diventata da blu a nera e solo gli occhi erano ancora vivi. Cercò di sorridere quando vide Mary, ma era più un tentativo di rimpianto. Ora ti lascio. Disse Raffaele a bassa voce. Bene, Mary annui. Rimasta sola con il padre, Mary avvicinò una sedia al letto e si sedette. Andrew premette un pulsante sul telecomando, il meccanismo girò, la testiera si alzò leggermente, in modo che ora potessero guardarsi alla stessa altezza. Non è un buon momento per lasciarti, disse mio padre. Mary non disse nulla, sapendo che non aveva senso dire una frase ridicola ora che forse avrebbe funzionato in qualche modo. Sapeva che non sarebbe stato così. Lo sapeva suo padre e lo sapeva anche il dottore. Hai chiamato Michael? Mary rabbrividì. Sì, ora lavora per noi. È una buona cosa. Per una volta ascoltò suo padre. Spiegami, papà, perché lui è adesso? Qual è il legame tra voi due? Il passato di sua figlia, il suo passato. Non capisco. Immaginavo, posando un palmo freddo sulla mano di Mary, che suo padre la guardasse intensamente, immaginavo che il tuo cuore te lo avrebbe detto. Per il primo o secondo Mary volle allontanare la mano. Anche un così piccolo accenno di affetto da parte del padre non era qualcosa a cui era abituata. Non capisco, ripete Mary. Non capisci? Suo padre scosse leggermente la testa. Era Tim, Ed. Era come se qualcosa fosse esploso nella testa di Mary. Era questo il motivo? Ecco perché quel volto e quei modi di fare di Michael sembravano così familiari. Ma come? Come poteva essere? Avevano seppellito Tim anni fa. Forse il padre stava delirando. Mary fissò gli occhi su di lui, cercando di cogliere qualcosa di innaturale nel suo sguardo. Ma lui non sembrava affatto delirante, i suoi occhi erano chiari e comprensivi. Capisco, disse. È difficile da credere. Non ci credevo nemmeno io quando si è presentato a casa mia. Pensava che ci fossi io dietro l'attentato alla sua vita. Credo che anche tu ne fossi sicuro, anche se non me l'hai mai detto direttamente in faccia. Ma non sono il mostro che hai sempre pensato. Papà, aspetta. Immagino che ora tu sappia chi c'è dietro questo crimine. William? È vero. Questo è il mio errore, il più grande errore della mia vita. Non ho mai voluto crederci. Ho fatto finta di niente, mi sono assicurato che fosse solo un banale incidente. Una coincidenza. Poi decisi cinicamente di approfittare di quella coincidenza. Dopotutto, Jack e Alex erano figli di Tim. Lo sono. Sì, lo sono. L'hai sempre saputo? No. William ha fatto il test del DNA. Bastardo. Esclamò papà. Un punto rosso lampeggiò sul monitor dietro la sua testa. Un'infermiera si precipitò immediatamente nella stanza e si avvicinò ad Andrew. Va tutto bene, disse papà in inglese, non preoccuparti. Ci dia un altro minuto. Ho ridistribuito, continuò il padre. La quota di controllo è di Jack e Alex. Finché non sarai maggiorenne, sarai designato come azionista non trasferibile, compreso il tuo coniuge. Perché, papà? Avresti dovuto lasciarlo a quel mostro? Sarebbe stato più sicuro per i bambini. Senti, non sai ancora tutto. Ma Tim te ne parlerà. È più complicato di quanto tu possa immaginare. Sarà dura per un po'. So che sei molto forte e so che Tim non ti lascerà con i bambini. Devi fidarti di lui. Qualunque cosa accada, fidati di lui. Hai sentito? Ti sento, papà. Ti sento. È mia figlia. È meglio così. Mi dispiace. Mi dispiace. Il punto rosso sul monitor lampeggiò di nuovo e qualcosa di stridente suonò. Papà allentò il palmo della mano di Mary e alzò lo sguardo. I suoi occhi si muovevano da una parte all'altra come se leggessero un libro e dopo qualche secondo si bloccarono. Era come se fossero ricoperti da una pellicola di ghiaccio. L'infermiera entrò di nuovo di corsa nella stanza. Questa volta il padre non pote più opporsi. La ragazza prese una siringa dalla scatola sul comodino e iniettò abilmente ad Andrew. Rimase a guardare il suo volto per un momento. Poi premette il pulsante blu sulla parete accanto alla porta d'ingresso e guardò Mary confusa. Lei aveva già capito tutto. Tre minuti dopo entrarono nella stanza due uomini. Misero Andrew su una barella e lo portarono fuori dalla casa. Mary corse dietro di loro, scorgendo l'auto medica che si era appena allontanata. Incontrò lo sguardo cupo di Raphael. Mi dispiace, disse lui a bassa voce. Lacrime calde scesero sulle guance di Mary. In Florida dovettero fermarsi altri tre giorni, perché il contratto con la pensione prevedeva che Andrew fosse sepolto nel cimitero locale. Questo era il suo stile. Nessun sentimentalismo, nemmeno in una questione come la sua memoria postuma. Non gli interessava tanto giacere accanto alla tomba della moglie, quanto assicurarsi che la sua eredità andasse a una persona degna e affidabile. Maria, ovviamente, non era affidabile. Quindi questa astuta mossa con i nipoti assicurò che le azioni sarebbero state al sicuro per molto tempo da azioni avventate da parte della figlia. Per lei erano più un peso che una buona risorsa. Il padre suggerì che, con il passare del tempo, la mente di Mary sarebbe stata messa al posto giusto, dal suo punto di vista. Al funerale parteciparono un avvocato e altre due persone che Mary aveva visto per la prima volta in vita sua. Tutte le questioni legali relative all'eredità furono risolte sul posto. Le azioni, su insistenza dell'avvocato, erano state messe in una cassetta di sicurezza, dove il padre aveva da tempo conservato altri documenti. I nervi gialogori di Mary erano saltati prima del volo, quando aveva cercato senza successo di chiamare i figli o Tim dalla mattina al pomeriggio. William non si era presentato al funerale. Anche se doveva esserli stato detto che Andrew se n'era andato, il che significava che stava facendo qualcosa di più importante per se stesso. La guerra era già iniziata? Mary non osò mai chiedere all'avvocato cosa sarebbe successo se i suoi figli non fossero arrivati all'età adulta. Anche solo il pensiero fugace la ferì profondamente. D'ora in poi i ragazzi erano in pericolo. E tutta la speranza rimaneva in Tim, nella fiducia in cui Andrew, ormai defunto, aveva insistito. Negli ultimi due giorni Mary non aveva chiuso occhio. E più si avvicinava a Mosca, più la sua paura aumentava. Asceremetievo ordinò un taxi e, senza fermarsi a chiamare, riuscì finalmente a tornare a casa. C'era un trambusto inusuale nel parco del cottage, dove le auto erano disseminate sui prati e sulle aiuole con fiori tardivi. Alcuni uomini con i fili che spuntavano dalle orecchie passeggiavano in tutti gli angoli e le fessure, scrutando con attenzione ogni nuovo arrivato. Anche Mary fu accolta come un ospite. Chiesero i documenti e controllarono se ci fossero armi. Poi si scusarono seccamente e la fecero entrare in casa. Ad accoglierla c'era un William agitato e spettinato. Cosa sta succedendo qui? Mary lo chiese sempre più pallida. William le fece cenno di seguirlo. Si appartarono nel cammino, dove non c'erano né guardie né servitori. Dove l'hai trovato? Sbottò nervosamente, è Michael. Cosa? Mary ci mise un po' a capire di chi William stesse parlando. Perché dall'ultima conversazione con suo padre si era abituata al fatto che lui fosse, in realtà, team autista. Quasi gridò il marito. Oliver si è licenziato e tu hai scaricato la decisione su di me, ricordi? Me lo ricordo. Ma perché proprio lui? Chi te l'ha consigliato? Mio padre. Che succede? Dove sono i bambini? Devo vederli. Li vedo. William si sdraiò su una sedia vicino al cammino e si accese una sigaretta. Cosa c'è di chiaro? Mary si arrabbiò. Dove sono Jack e Alex? Non lo so. William si è tirato dietro le spalle. Come fai a non saperlo? E questo cosa c'entra? Cosa c'entra con? Michael? Mary ha quasi detto il suo vero nome. Ha a che fare con il fatto che è lui che ha preso i vostri figli. Cosa? Con me? Accompagnandoli a scuola in silenzio ieri mattina. E da allora non abbiamo più avuto notizie né di lui né dei bambini. La mente di Mary era completamente confusa. Anche lei sprofondò in una poltrona e fissò il fuoco del camino. All'improvviso le balenò in testa l'idea giusta, come le era sembrato. E se fosse stato proprio questo il modo in cui team aveva protetto Jack e Alex. Oppure, non c'era nessun oh. Mise mentalmente a confronto i due uomini, William e team. Il primo poteva essere il motivo della scomparsa del trio. Se in qualche modo avesse scoperto chi si nascondeva dietro l'identità di Michael. Ma team, team sembrava superiore a Mary in questo confronto. Aveva il controllo della situazione molto prima di trovarsi nella loro casa di riga. Avrebbe dovuto prevedere le possibili azioni di William e prevenirle prima che potesse escogitare qualsiasi piano. Ma perché avrebbe dovuto farlo? Chiese Mary. Rapire i bambini e non fare richieste? No, non ancora. Aspetto la telefonata. Immagino che se farà una telefonata, sarà solo per lei che avrà il telefono sotto controllo. Adesso deve andare nel mio ufficio. Le diranno come comportarsi. L'attesa si protrasse fino a sera. Mary scivolò nell'oblio a intermittenza, perché rimanere sveglia per la terza notte di fila era diventato troppo per lei. Cercò di immaginare come sarebbe stato il suo piano se fosse stata al posto di team. Ma non riusciva a pensare a nulla che avesse senso. William, comunque lo vedesse, sembrava una figura inarrestabile. Tim era destinato a chiamarla. Non c'erano dubbi su questo. Avrebbe chiesto un riscatto. Come si addice al ruolo di un rapitore. Molto probabilmente, Mary avrebbe dovuto consegnare lei stessa il denaro, e poi in qualche modo lui l'avrebbe intercettata e sarebbero finiti insieme. Per chiarire tutte le sfumature delle circostanze. Ma la domanda era, se Tim avesse chiesto troppi soldi, William avrebbe accettato? Era improbabile che il marito fosse interessato alla vita e alla sicurezza dei figli. Aveva bisogno delle azioni per diventare il padrone finale dell'agenzia. Era disposto a sacrificare denaro ora, con la vaga speranza di avere qualcosa da guadagnare tra undici anni. I suoi pensieri e il suo sonno occasionale furono interrotti da una telefonata tanto attesa. I tre uomini dell'ufficio, compreso William, si svegliarono e si affrettarono, facendo a Mary dei segni indecifrabili. Lei alzò la cornetta. Sì, la sua voce tremò leggermente. Mary, sentì il ricevitore. Si sentì sollevata. Era la voce di Tim sto ascoltando, disse Mary con sicurezza. Chi è? Sono Michael. Sto per parlare. E tu ascolta attentamente e non interrompere. Mary non rispose. Va bene, la voce continuò. Avete avuto tutto il tempo per iniziare a raccogliere denaro perché avete aspettato la chiamata e avete capito che ci sarà bisogno di soldi. Quindi non trasciniamo questo problema. Domani, esattamente alle 14, dovrete recarvi con il denaro in un luogo stabilito. Le invierò le coordinate. Li riceverà ulteriori istruzioni. Dovete essere soli in macchina. Niente code. Niente polizia. Importo del riscatto. 1 0 0 0 0 0 0 0 dollaro. Non ci saranno contrattazioni. Numeri e orari sono definitivi. Altrimenti, sapete cosa vi aspetta. Fine della storia. Con grande sorpresa di Mary, William non disse una parola sulla somma che chiedeva. A quanto pare aveva preparato il denaro in anticipo, perché la mattina dopo un'enorme valigia era stata messa sul sedile posteriore dell'auto di lei. Naturalmente, nessuno mostrò a Mary il denaro in sé. Poteva essere qualsiasi cosa. Nessuno ha spiegato nulla. Le misero solo un giubbotto antiproiettile e le dissero di recarsi nel luogo stabilito e di fare tutto ciò che il rapitore aveva detto. William stesso era partito la sera prima e non si era fatto vedere fino alla partenza di Mary. Mary controllò per la centesima volta. Il suo telefono per assicurarsi che fosse carico. Appoggiandolo sul cruscotto dell'auto di fronte a lei, pregò mentalmente e augurò a se stessa e a Tim buona fortuna e premette sull'acceleratore. L'autostrada era sconosciuta e deserta. Poteva accelerare e raggiungere la destinazione in mezz'ora. Ma Mary sapeva di dover rispettare la tabella di marcia. C'era un motivo se Tim aveva indicato quell'ora. Non riusciva a trattenersi. Aveva una gran voglia di vedere i bambini e di dare finalmente una spiegazione all'amante del suo passato, improvvisamente risorto. Mary non aveva notato una coda dietro di sé, anche se era sicura di essere seguita. William non avrebbe rinunciato a un centesimo per niente. E non si trattava nemmeno di soldi. Non gli importava del denaro. Si trattava della sfida che gli era stata lanciata da qualcun altro. E se William avesse saputo la verità, non sarebbe stato così sicuro di sé. Tim doveva avere un asso nella manica. Altrimenti non avrebbe corso un rischio così evidente. L'autostrada terminava ora e Mary svoltò in una strada secondaria. Con buche e pozzanghere dovute alla pioggia caduta durante la notte. Un SUV nero lampeggiò nello specchietto retrovisore dietro la curva, e sì, aveva una coda. Mancavano solo 4 chilometri. Davanti a noi c'era uno stretto ponte a una corsia e, subito dopo, un incrocio. Mentre Mary passava il ponte, un camion si avvicinò alla sua destra e frenò, bloccando la strada con la sua carcassa. Attraversare il fiume. Non c'era altra strada che quella dell'inseguitore. Proprio così, Mary sorrise tra sé e sé. La strada svoltò bruscamente a sinistra. Un centinaio di metri dopo la curva vide la familiare Toyota Argentata. Era proprio il punto in cui l'avrebbero incontrata per ricevere nuove istruzioni. Mary rallentò e accostò al lato della strada. Proprio dietro la Toyota. Scese dall'auto. Si guardò intorno con attenzione. Ascoltò. Il silenzio era rotto solo dal silenzioso fruscio delle foglie nel bosco. Ai bordi della strada. La portiera della Toyota si aprì e Tim si affacciò, salutando con la mano. Mary quasi corse verso di lui, dimenticando la valigia con i soldi. Tim le fece cenno di andare alla porta opposta e di salire in macchina. Mary era confusa. Non sapeva come comportarsi in circostanze così insolite. Prima di tutto, voleva vedere i bambini e sentire le parole di Tim che confermavano le sue intuizioni su un piano preordinato per proteggerli. Ma poteva andare in entrambi i modi. E se fosse stata solo una sua fantasia? E se anche suo padre si fosse sbagliato di nuovo, credendo alla presunta apparizione di Tim. Tutta la natura femminile di Mary protestò. No, no, si può ingannare la mente, ma non il cuore. Salì in macchina e guardò Tim con aspettativa. Il suo volto era serio e imperturbabile. Devi fidarti di me, disse lui senza voltarsi verso di lei. Ho promesso di proteggere i bambini. È esattamente quello che ho fatto. Mary non si è nemmeno accorta di come siano passati improvvisamente a te fin dal primo secondo. Lo so, Tim, sbottò. L'uomo si voltò. La gioia gli balenò negli occhi, ma si trattenne dal provare sentimenti inutili in quel momento. Andrew? Chiese. Mi aveva detto tutto. Beh, non proprio tutto. Aveva lasciato a te la maggior parte della storia. Andiamo o aspettiamo qualcuno? Voglio vedere i bambini. Sì, solo un minuto. In quel momento l'auto di Mary entrò nel vialetto e sorpassò la Toyota, spargendo ghiaia sotto le ruote. Mary guardò Tim sconcertata. Ci sono dei soldi lì dentro, disse a bassa voce. Non preoccuparti, se c'è, cosa di cui dubito fortemente, non andrà da nessuna parte. Il mio uomo devierà la coda. È un pilota professionista. Non si preoccupi di lui. Il furgone avrà già lasciato la strada. È ora di muoversi. Dove andiamo? Andiamo dall'altra parte. Vi dirò tutto sul posto. Nel frattempo, butta via i telefoni e togliti quello stupido gilet, nessuno ti sparerà. Mary fece come aveva detto Tim spinse. Sull'acceleratore e, dopo un altro chilometro, svoltò su una strada forestale. Attraversarono il bosco per circa 40 minuti, finché si fermarono in una piccola radura circondata da alti pini e da un lungo fosso con acqua nera di palude. Un ponte fu gettato attraverso il fosso. In tre tronchi passarono dal bordo a un sentiero appena visibile, nella boscaglia che iniziava lì. Il cammino durò altri 15 minuti. Rimasero in silenzio per tutto il tempo, ognuno pensando ai propri affari. Finalmente videro una piccola capanna di fronte a loro. I cacciatori e le cacciatrici sono soliti alloggiare in tali capanne. Una capanna piccola e robusta, con una sola finestra e un portico basso a due gradini. Jack e Alex erano già dentro la casa ad accoglierli. Si gettarono subito tra le braccia di Mary e Mary pianse e Rice di felicità, li baciò e disse qualcosa. Ringraziando Dio per un risultato ancora non scontato. Quando cominciò a fare buio e l'eccitazione per gli ultimi avvenimenti si placò un po'. Mary mise a letto i ragazzi, soddisfatti delle loro avventure nella foresta. Avevano passato un'ora a raccontarle le loro avventure con lo zio Michael. E di come aveva persino permesso loro di saltare la scuola. A loro piaceva tanto questa capanna sperduta di pini e abeti quanto quella che avevano trovato a Dubai di recente. Assorbivano come una spugna a tutto ciò che il mondo aveva da offrire. Enorme, pieno di rivelazioni e misteri. Mentre Mary si godeva il suo tempo con i ragazzi, Tim si esercitava nella minuscola cucina. Cucinava una cena tardiva su un fornello a paraffina. Un profumo sconosciuto aleggiava nella stanza, divisa in due da una semplice tenda. Era un misto di foglie catramose, paraffina e pesce fritto. Mary non vedeva l'ora di sentire la cosa più importante che mancava nella storia di Tim. Quando i bambini si addormentarono, tirò le tende che separavano il loro bugigattolo dall'altra metà. Si avvicinò a Tim e lo abbracciò, appoggiando il viso sul suo ampio petto. Lui le diede un abbraccio altrettanto tenero. Rimasero così per un minuto senza muoversi ne dire una parola. Come poteva essere? Mary ruppe il silenzio. Perché non vi siete fatti avanti prima? Ti abbiamo seppellito. Dove sei stato tutto questo tempo? Sediamoci. Tim suggerì. E io vi. Raccoterò tutto. Si sedettero. Non avevano affatto fame. Tim stava cucinando solo per riempire la pausa, mentre voleva parlare della cosa principale, per la quale aveva iniziato l'intera cospirazione. All'inizio, cominciò, non potevo apparire perché il mio viso era un pasticcio in forme di sangue. È proprio in questa capanna che mi sono leccato le ferite per tre mesi. Questa è la capanna di mio nonno. Ai tempi dell'Unione Sovietica lavorava qui come guardiacaccia e poi andava a vivere qui per tutta l'estate, finché aveva forze. Vagava lungo i sentieri familiari e disboscava la capanna. Spesso mi portava con sé per una settimana o poco più. Aveva un'ottima cassetta di pronto soccorso con tutto il necessario. In qualche modo sono riuscito a uscire da lì. Cosa è successo sul fiume? Chiese Mary. Al fiume. Tim sospirò pesantemente. Anche per me era un mistero da molto tempo. Era già buio il giorno in cui io e i miei amici celebravamo la mia prima vacanza. Decisi di andare a fare una nuotata. Il tempo era stato soffocante per tutto il giorno e la sera non si stava raffreddando. Arrivai al centro del fiume e stavo per tornare indietro quando sentii qualcosa afferrarmi le gambe e trascinarmi sul fondo. Non sono un cattivo nuotatore. Anche Dio non mi aveva dato molta forza. Cercai di uscire dall'acqua, ma non volevo essere tirato fuori, così decisi di scoprire che tipo di mostro stava cercando di raggiungermi. Presi un respiro nel petto e mi tuffai. Nell'acqua scura riuscivo a scorgere solo una vaga ombra che non assomigliava affatto a un pesce. Sapevo che era un uomo. E se lo era, potevo reagire, chiunque fosse. Seguì una lotta. Da vicino potevo già distinguerlo abbastanza chiaramente. L'uomo sembrava un subacqueo. Riuscì a strapargli il boccaglio dalla bocca e lui si affrettò a riemergere. Mentre lottavamo, la corrente mi portò lontano da dove ci eravamo sistemati con i nostri amici. Raggiunsi la riva a circa 200 metri di distanza. Ero completamente esausto e mi. Sedetti per riprendere fiato. Cominciai a pensare a chi e perché avesse bisogno di uccidermi in quel modo. Non poteva essere stato un maniaco subacqueo, un sommozzatore. Di notte su nuotatori incauti. Non potevo escludere nemmeno questo, ma mi sembrava più realistico che avesse a che fare con te e tuo padre. Non volevo crederci. Ma la logica mi diceva che era così. Non avevo avuto il tempo di riprendere fiato prima di essere nuovamente attaccato alle spalle. Questa volta un braccio forte cercò di strangolarmi. Ci agitammo per un minuto prima che perdessi i sensi. Mi svegliai in acqua. Di nuovo in mezzo al fiume. Non so come ho fatto a non annegare mentre la corrente mi portava via. Con uno sforzo incredibile, raggiunsi di nuovo la riva. Non riuscivo a sentire il mio corpo, lo toccai con le mani e capii che gli era successo qualcosa di inimmaginabile. Non riuscivo a ricordare chi mi avesse fatto questo. A quanto pare il mio volto era stato mutilato mentre ero svenuto, evidentemente volevano uccidermi e fare in modo che se il mio cadavere fosse stato trovato per molto tempo, sarebbe stato impossibile scoprire la mia identità. Il fatto che fossi sopravvissuto sembrava un miracolo. Possiamo uscire? Chiese Mary. Quando Tim fece una pausa nel suo racconto. Voglio fumare. Non riesco a immaginare come William possa fare una cosa del genere. Sì, andiamo. Anch'io voglio un po' d'aria. Uscirono e si sistemarono sul portico. Mary si accese una sigaretta. Allora, chiese Tim, anche Andrew te ne ha parlato. Sì. Posso immaginare quanto fossi spaventata per Jack e Alex. Ero sicuro che li avresti protetti. Comunque, Tim tornò alla storia. In tre mesi ho avuto molte cose per la testa. Certo, sapevo che affrontare da solo un'intera corporazione significava probabilmente condannarsi a morte. Ma non si poteva permettere che queste persone la facessero franca. Quando il mio viso era in qualche modo guarito. Dopo avermi reso completamente irriconoscibile, la prima cosa che feci fu. Andare dal mio amico. Era l'unico di cui potessi fidarmi. Mi aiutò con i soldi, con i vestiti. Mi ha messo in contatto con le persone giuste, vicine alle autorità. Ma che fanno il loro gioco? Sono persone di idee, non potevano essere comprate. Le loro opportunità erano limitate, ma non hanno rifiutato di aiutarmi. Tutta questa storia ha richiesto molto tempo per essere sviluppata. Con la massima discrezione e cospirazione. Siamo comunque riusciti a elaborare un piano più o meno fattibile. Solo che non fu il tentato omicidio a dover essere riesumato. Due anni dopo, non c'era un solo sospetto o una sola prova. Ma sul lato finanziario dell'agenzia. È lì che si poteva ottenere una pista piuttosto buona. Soprattutto dopo che Andrew si era ufficialmente ritirato e aveva ceduto il controllo a William. Aveva perso ogni cautela. Tanto che ce n'era abbastanza per arrestarlo, e molto di più per andare in giro. Il nostro piano stava per essere completato quando improvvisamente qualcosa andò storto. Ci fu un rimpasto all'interno di questa organizzazione non ufficiale che non era un'indagine di Stato. Persone che conoscevo se ne andarono. Al loro posto sono arrivate nuove persone di cui non potevo fidarmi allo stesso modo. Tuttavia, si era accumulato molto materiale. Dovevo solo trovare il modo di usarlo in modo efficace. Ci sono voluti altri quattro anni. Sono andato a trovare Andrew in Florida, disperato. È stato un impulso spontaneo e impaziente. Volevo un incontro faccia a faccia con colui che, a mio avviso, aveva dato inizio a tutto questo casino durato sette anni. Stavo correndo un rischio. L'intera operazione poteva andare a rotoli. I miei nervi non erano di ferro. Ero solo fortunato. Soprattutto, tuo padre mi ha aperto gli occhi sulla verità. Quel giorno tutto andò finalmente al suo posto. Andrew decise di aiutarmi personalmente. La macchina investigativa era finalmente in funzione. Tutto ciò che dovevo fare era gettare nella sua fornace fatti inconfutabili. Fu. Allora che si pose la questione della tua sicurezza e di quella dei tuoi, dei nostri figli. E poi tu sapevi tutto. Come ha scoperto dei bambini? L'ho capito il giorno in cui eri nel reparto maternità. Ero lì. E poi un semplice test del DNA. Non è stata una grande sorpresa. E adesso cosa facciamo? Ormai è tutto alle spalle, credo. Questa notte sarà finalmente il capolinea. Ci sono perquisizioni in corso a casa tua e in tutte le filiali dell'agenzia in questo momento. No, William, non tutte le persone coinvolte nei crimini sfuggiranno alla punizione, in un modo o nell'altro. Puoi starne certo. Mary non riusciva a credere che tutto sarebbe finito presto. Quindi domani saremo già liberi? Libere e con una vita intera davanti a noi. Una vita vera. Come l'avevamo vista io e te all'inizio. Era la strada per la loro nuova vita. E domani faranno il primo passo. Tutti insieme. Mary, Tim, Alex e Jack. E nient'altro potrebbe offuscare la loro felicità. A prescindere da come andranno le cose con l'agenzia, troveranno il loro posto nella vita. Si sono ritrovati per sempre dopo aver attraversato molti problemi e prove. E questa è la loro più grande forza, che nient'altro può sconfiggere.